Il posto migliore in aereo Se uno ha paura di turbolenza è meglio che sieda al centro dell'aeroplano per evitare escursioni più ampie. Se uno vuol guardare fuori, gli piace il panorama, vuol controllare la situazione meglio di altri sin da quando l'aeroplano è a terra, è bene un finestrino. Se invece uno soffre di claustrofobia è bene un corridoio per non sentirsi troppo inchiuso con le persone che stanno troppo addosso.